Città che vai, Natale che trovi. A Bassano quest'anno è diverso, con casette cariche di neve, mostre, shopping, eventi, concerti, molte sorprese per i piccoli, il tutto perché Bassano diventi polo attrattivo. La magia di Bassano ci porta sempre e ci avvicina ai nostri centri storici, perché in realtà noi cerchiamo sempre un po' di romanticismo e di vivere un po' la magia. Quindi sì, speriamo che questo sia un ulteriore step in questo percorso lunghissimo che noi vediamo a medio e lungo termine. Bassano città del Natale dal weekend del 30 novembre con il camminamento delle mura, gli elfi che accolgono i bambini nel sentiero di Babbo Natale, musica e un nuovo albero con palline e la possibilità di scrivere un messaggio personalizzato in piazzetta Guadagnin dedicata all'associazionismo, il trenino, la visita alla torre civica, il concerto di Cheryl Porter a Santa Maria in Colle e altro ancora. Tantissimi, chiamiamoli attori, ma io direi amici da associazioni, privati, scuole di danza, Don Andrea per il nostro abate, l'associazione Tracce, quindi veramente abbiamo creato, questo è un Natale creato tutti insieme. Grazie. Grazie.